Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo studio, sono Xander e oggi siamo su Minecraft ma bensì siamo per vedere il comando dell'Axalot allora, il comando è facilissimo da mettere per mettere il comando dell'Axalot, per chi magari lo vorrebbe innanzitutto dovete essere in un mondo nel vostro vanilla, quello che volete voi ovviamente un mondo con i trucchi, iniziamo da questo poi per seconda cosa, per mettere il comando dell'Axalot bisogna fare slash summon slash summon no, aspettate, eccolo poi scrivete Axalot, no Axalotl poi mettete tre di questi qui dove sta? Eccolo, uno, mi raccomando staccati tre, perfetto, una volta messi dovete mettere venite sempre staccato Minecraft poi due punti dove sono i due punti? Eccoli Minecraft Entity Entity trattino basso Born Born, Born come si dice perfetto, ed ecco a voi un Axalot Oh, ok, eccolo un attimo vi laggate il mondo ed ecco qui il vostro Axalot blu guardate quanto è bello lo prendete, eccolo qui quindi ragazzi, questo qui è il comando dell'Axalot mi raccomando dovete scrivere tutto quanto uguale a questo se no non vi va il comando e ne potete spawnare quanto ne volete voi uno, due, tre, quattro, cinque quante ne volete voi quindi niente quindi raga spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciato un bel mi piace iscriviti al canale e niente ragazzi ci vediamo ciao ciao